Bentornati su Gens Italia. Dobbiamo raccontarvi quello che sta accadendo in Medio Oriente con il botta e risposta tra Hezbollah e l'IDF Israele. Partiamo subito. Prima di farlo vi ricordo che per sostenere il nostro canale è molto semplice, basta un like e farci sapere la vostra qui sotto con un commento. Partiamo con due siti che sono diametralmente opposti, Reuters e Al Jazeera, che ci raccontano che Hezbollah ha lanciato centinaia di ralti e droni contro Israele domenica mattina. Si parla di un orario attorno alle 5 del mattino e di un attacco preventivo da parte di Israele. Andiamo nel dettaglio. Innanzitutto va ricordato che questo è un attacco che è avvenuto come risposta a un accadimento di più o meno 4 settimane fa, di un mese fa, in cui il Libano, o meglio Hezbollah, è stata colpita da Israele come risposta ad un attacco che aveva visto il coinvolgimento di alcuni ragazzini. Dopo andremo a vedere poi nel dettaglio, giusto per rinfrescarci la memoria. Innanzitutto, Hezbollah ha affermato di aver lanciato centinaia di droni verso Israele e di aver colpito 11 obiettivi militari, in quella che ha definito la prima fase della sua rappresaglia per l'assassino di Sukur, appunto uno dei vertici di cui vi stavo parlando poco fa. C'è un'ipotesi nel ritardo dei negoziati, di conseguenza a causa dei negoziati che erano ancora in ballo, anche se purtroppo, duele dirlo, sono da mesi che sentiamo parlare di questi negoziati che sono in fase praticamente di ultimazione, che a un certo punto però si affossano. A quanto sembra, riportato dagli stessi Hezbollah, l'attacco era stato rimandato proprio per dare tempo ai negoziati di andare avanti. A quanto pare sono falliti ancora una volta. C'è stato l'attacco preventivo dai DF? Beh, qui sorge il primo dubbio. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver sventato un attacco molto più grande con attacchi aerei preventivi su 40 siti di lancio, dopo aver valutato che Hezbollah si stava preparando a lanciare il bombardamento. Netanahu ha affermato che Israele ha adottato misure preventive. Come sapete, si parlava già del fatto di condurre degli attacchi preventivi nel caso in cui ci fossero degli elementi di conferma di un attacco imminente, già alcune settimane fa nei confronti dell'Iran. Iran che ha, come sapete, una risposta ancora da dare nei confronti di Israele a seguito dell'assassinio a Teheran del leader di Hamas. Assassinio che modalità che non sono ancora state appurate e soprattutto, ricordiamoci sempre, non sono state ancora reclamate da parte di Israele. Le modalità né tantomeno l'assassinio. Ovviamente ci sono dei legittimi sospetti su Israele. Scusate la facile ironia. C'è stata la smentita, quindi, no. Nezbollah ha respinto la dichiarazione di Israele, secondo cui l'attacco del gruppo era stato sventato con attacchi preventivi, affermando che era stato in grado di lanciare i suoi droni come previsto, e anche i suoi razzi, e che il resto della sua risposta all'uccisione di Sukur avrebbe richiesto un po' di tempo. Quindi, diciamo che nelle prime ore, a quanto pare, era immersa la notizia che Israele aveva condotto l'attacco ed era finita lì. In realtà, nonostante sia stato un attacco che comunque ha coinvolto centinaia di razzi e droni, l'attacco è avvenuto. Quindi il lancio c'è stato. Quelli che sono stati invece coinvolti sono stati i lanciatori. Un discorso su cui poi ci torniamo perché va sempre fatta una scrematura tra munizionamento e i lanciatori. L'escalation, lo sappiamo, è sempre lì, è sempre alle porte. Le aspettative di un'escalation erano aumentate dopo che il mese scorso un attacco missilistico sulle alture del Golan, occupate da Israele, aveva ucciso 12 giovani di origine drusa, mentre l'esercito israeliano, appunto, aveva dato come risposta l'assassinio del vertice di Ezbolla. C'è un discorso poi da fare in merito alla guerra fantasma. Lo sapete, sono morte oltre 500 persone in Libano dagli attacchi israeliani dall'8 ottobre, quindi dal giorno successivo ai 7, la maggior parte dei quali combattenti di Ezbolla e altri gruppi armati. Inutile nascondere, ci viene anche raccontato qui, che anche una componente civile è stata coinvolta. Si parla di 100 civili non combattenti. Nel nord Israele, invece, anche Israele, appunto, deve registrare delle vittime, 23 soldati e 26 civili, senza poi contare tutto il discorso del sfollamento di migliaia di civili da ambo i lati. Nel 2006, lo ricordiamo anche per dare un po' il quadro della situazione, ricordandoci che Ezbolla non è Hamas, non soltanto dal punto di vista ideologico, ma dal punto di vista proprio della capacità bellica intrinseca al movimento. Nel 2006, Israele e Ezbolla combatterono una guerra durata un mese, che lasciò in rovina gran parte del sud di Beirut e del Libano meridionale, e costrinse centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case da entrambe le parti. Quindi, Ezbolla, quando vi dico che non è Hamas, lo faccio anche con, e qui torniamo al discorso della differenza tra munizionamento e lanciatori, il focus incentrato sulla capacità bellica, non soltanto dei militari, della componente armata, ma anche dal punto di vista logistico. Ora, prima vi ho parlato della differenza tra lanciatori e munizionamento. Chiaramente, avere a disposizione 150 mira, secondo alcune stime, razzi, droni, missili, tutto il compendio, non significa avere la capacità di inondare Israele nel giro di un'ora di tutto questo arsenale e randerla al suolo. No, attenzione. Significa avere a disposizione quel munizionamento. Una cosa diversa, invece, sono i lanciatori, come il buon Andrea Gaspardo, analista con cui, per fortuna, ho un modo di scambiare opinioni molto spesso in privato, mi va sempre a evidenziare questa differenza. Di conseguenza, anche se ci fosse un'eventuale guerra, cosa che noi non ci auguriamo, ma, viste le premesse, purtroppo, è questione di tempo. Prima che qualcuno ammazzi, scusate i termini poco tecnici, un bambino in più, oppure un vertice in più, che vada a generare una risposta da parte di uno dei due attori coinvolti, anche se ce ne sono molti di più, in realtà, beh, quell'escalation potrebbe arrivare. Però, attenzione, appunto, quando si parla di queste capacità offensive, è vero, sicuramente sono, da un punto di vista prettamente militare, hanno una capacità diversa rispetto ad Hamas, ma quando si danno quei numeri bisogna anche mettere i puntini su lei. Quindi ci viene anche ricordato il discorso del Libano. Io vi lascerò nel primo commento una live, secondo me molto utile per andare ad approfondire, fatto dal canale di Antonello Sacchetti, in cui si parla della situazione nel Libano. Il Libano che dovrebbe essere già da anni distrutto, praticamente alla fame. In realtà si va, come giustamente Antonello va a delineare in questa live, si va a delineare una situazione paradossale, in cui abbiamo un popolo, quello del Libano, che è abituato a vivere in una determinata maniera, in una società completamente diversa rispetto invece a quella che sta venendo stravolta dalla guerra nella striscia di Gaza, per ovviamente motivi diversi. C'è stato il 7 ottobre, nessuno deve mai dimenticarselo, c'è quello che accade anche nella striscia di Gaza ogni giorno, con numeri chiaramente diversi, ma sempre di persone coinvolte, per ovviamente motivi diversi, stiamo parlando. Quello che però, da un punto prettamente cinico, chiaramente, è interessante andare ad analizzare, è il fatto che la società israeliana, ad un certo punto, dovrà venire a patti anche con il fatto che c'è una mancanza, nella vita civile, di molti soldati che sono al fronte, per i più disparati ruoli, chiaramente. Ricordiamoci anche questo. Quindi nel caso in cui ci fosse una guerra aperta con il Libano, adesso arriveremo sul discorso di chi fa comodo una guerra eventuale, ma ricordiamoci anche che Israele non è detto che possa condurre una guerra per diversi anni, perché la società di Tel Aviv, la società israeliana, è molto diversa ed è abituata in maniera diversa rispetto magari a chi è abituato a continui blackout o a determinate privazioni. Si può citofonare chiaramente anche a quello che succede in Yemen del nord. Ora, veniamo quindi a chi potrebbe trovare il giovamento in un proseguo della guerra. Lo sapete benissimo, chi segue il canale ne parliamo già da tempo, non sono il primo chiaramente a dirlo, ne faccio solamente da megafono. Netanyahu avrebbe un giovamento nel caso del proseguo, perché sappiamo è una figura che è in bilico. E le parole che hanno detto oggi vanno sicuramente in questa direzione in chi lo accusa di avere un eventuale vantaggio nel proseguo. Innanzitutto c'è da dire che il ministro degli esteri israeliano ha affermato che il paese non desidera una guerra su vasta scala, ma, appunto, poi andando a leggere nelle prime pagine di oggi, questa non è la fine della storia, è quanto ha affermato Benjamin Netanyahu. Quindi ogni ulteriore escalation dei combattimenti iniziata parallelamente alla guerra di Gaza rischia, parliamoci chiaro, di trasformarsi in una co-flagrazione regionale che coinvolgerebbe altri attori come, ad esempio, l'Iran, sostenitore di Hezbollah, e gli Stati Uniti, principale alleato di Israele. Prima di lasciarci, vi ricordo che, se avete piacere, c'è il gruppo Telegram di Gensitalia, alla quale potete unirvi facilmente, lo trovate nel primo commento sul canale YouTube, assieme alle fonti, e, soprattutto, assieme a molti altri commenti che sono curioso di andare a leggere insieme a voi. A presto, qui su Gensitalia, con nuove notizie.